Ehi, ti sei incantato il joystick! Perché non hai tirato! Perché non hai tirato! Perché non hai tirato! Mi piace fare tante skills. Palla lunga e pedalare. Cadenaccio e contromiede. Palla agli altri e andiamo ad aggredire. Complimenti, Eva da Vittoria. Cos'è questa roba? Cos'è questa roba? Che viste a farmi pallonetti! Oh, state facendo troppo casino per i miei gusti, eh. Il gioco per il gioco. Ma no, un giocatore! Che giocatore! Che giocatore! Sto giocando 3 contro 1, ma va bene. Dai, Pippo, non mollare. Fai gol, eh. Sì! 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 Andiamo! Sono scarsi, non posso perdere questa partita qua. Ansia! Dai! Sì! 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 Vorranno vincere loro, vorranno vincere. Io muro lo tolgo subito proprio a prescindere. Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Andiamo! Calma, calma, abbiamo fatto ancora niente. Allora, rigore! Rigore! Andiamo! Siccio! Siccio! Come va? Come va la partita, eh? 2-1, 2-1. È tosse, è tosse, ragazzi. Sì. Eh, Nini è bravo. Dagliela, dagliela, dagliela. È già tu, dai! È già tu, dai! È già tu, dai! È già tu! Ma con questa mossa mi hai fatto bene! Faccio odio! Lo 75esimo! Eh, datemi la coppa! Dai, bravi! Sei felice, eh? Tu hanno! Un orario mio anno! Tu e non inquadrarmi, grazie!